È stato inaugurato oggi il nuovo centro vaccini al Palazzetto dello Sport di Via Ungheria a Porto Sant'Elpidio. Erano presenti il sindaco Nazareno Franchellucci, la coordinatrice dell'equipe territoriale Loretta Carpiceci, il direttore dell'area Vasta 4 Licio Livini ed il prefetto di Fermo Vincenza Filippi. Il comune si è fatto promotore dell'iniziativa coinvolgendo il mondo del volontariato e rendendo fruibile il palazzetto, abituato ad avere le gradinate piene di tifosi della prima squadra elpidense, ma a causa Covid da mesi ormai inutilizzato. 24 medici dell'equipe territoriale di Porto Sant'Elpidio e delle farmacie comunali in azione, addetti alla protezione civile e all'accoglienza, volontari della Croce Verde e dell'Associazione, insieme a te, ad assistere e registrare i convocati. Infine la cooperativa Ress Nuova Ricerca per il supporto infermieristico ai medici di base. Inizialmente il centro sarà aperto 5 giorni su 7 per 3 ore al giorno. Sarà in grado di vaccinare 100 persone al giorno, ma l'obiettivo è di arrivare a somministrare fino a 5.000 dosi a settimana.